Il Paradiso, anticipazioni al, 21, 04, Marco spiegazioni a Gemma sulla gravidanza. Procede la messa in onda delle puntate del Paradiso delle Signore. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Rai un decalitro 17 al 21 aprile. Rivelano che Vittorio proporrà a Maria di diventare la nuova stilista de magazzino, tale proposta andrà però a intaccare l'idea di Vito di andare a vivere con lei in Australia, dove ha sede la sua azienda. Alfredo intanto si sentirà deluso da Irene, in quanto la giovane capocommessa inventerà una bugia per non presentarsi alla famiglia di Perico. Matilde scoprirà che probabilmente i responsabili dell'incendio alla propria azienda di famiglia sono stati arrestati. La notizia rieprirà in Matilde e desiderio di indagare e scoprire tutta la verità su cosa avvenne al mobilificio. Anche se Tancredi la spronerà a lasciare stare, Conti appoggerà alla scelta dell'ex collega. Ma il fratello di Marco chiederà al direttore di non fomentare le idee di sua moglie. Ben presto Frigerio sarà chiamata a testimoniare su quanto accaduto quella notte. Intanto Tancredi riceverà la notizia che ben presto potrà sottoporsi all'operazione alla gamba. Clara sarà stanca di fingere che Francesco sia il suo spasimante. La ragazza potrebbe svelare la verità. Gli inviti per le nozze di Gemma e Roberto saranno pronti e la giovane Zanatta si appresterà a distribuirli fra le colleghe veneri. Nel frattempo, crescerà la sintonia tra Marco e Gemma. Il giovane dirà a Gemma che non parteciperà alle sue nozze. Per il giornalista arriverà il momento di scoprire della gravidanza di Gemma, fino a ora a lui sconosciuta. Il ragazzo crederà che il bambino sia di Roberto. Di lì a poco però, il giovane inizierà ad avere dei seri dubbi sul rapporto tra Landi e Gemma. Quindi le chiederà delle spiegazioni e la ragazza lo tranquillizzerà dicendo che non è lui il padre del figlio che aspetta. Intanto Marcello sarà teso per via delle bugie della contessa e riverserà il suo nervosismo in caffetteria. Intanto Umberto inizierà a indagare sulla sparizione di Adelaide, ma la sua fidanzata Flora si arrabbierà. Barbieri, dopo aver ricevuto una telefonata di Adelaide, si sfogherà con Ludovica. Che tenterà di consolarlo? Nel frattempo il comandatore verrà a conoscenza dei movimenti della cognata. Infine Elvira chiederà aiuto a salvo per la sua ultima guida prima dell'esame per la patente e fra i due accadrà qualcosa di totalmente inaspettato. Stui plin de dude, dume redate printre talea culte. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, shuabo. Grasul, nimeni alt, du delvede, sau garbo. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text.